Amici e amici di Russini TV, buonasera, benvenuti a tutti. È uno spazio elettorale quello che abbiamo riservato per voi questa sera. Abbiamo come ospite Marco Bentivogli, candidato al Senato della Repubblica, al Collegio Uninominale, Marche Nord, Ancona, Pesaro Urbino, per la coalizione di centro-sinistra. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. 52 anni, un passato da sindacalista, da oltre 20 anni nelle Marche, quindi conosce benissimo la nostra realtà. È stato anche fra gli estensori del piano industriale 4.0, quindi un qualcosa di veramente calato nella realtà. Marco Bentivogli, i motivi della sua candidatura? Penso sia assolutamente importante in un momento difficile, che ognuno faccia la propria parte e la posta in gioco di queste elezioni è molto alta. Noi dobbiamo assolutamente cercare di rappresentare di nuovo le istanze del lavoro, le istanze dell'impresa, l'istanza dell'Italia che genera il lavoro, proprio per ricostruire allo stesso tempo un'Italia a misura degli ultimi, un'Italia che tiene conto del cambiamento climatico, della transizione digitale e di quella demografica. Una lunga storia nel sindacato, quindi vicinanza con le persone, capacità di ascolto, non a caso il suo slogan è proprio indirizzato alle persone. Lei in questa campagna elettorale così impegnativa ha ascoltato tantissimi che si sono rivolti a lei e le hanno portate diverse istanze. Sì, abbiamo fatto centinaia di incontri, l'emergenza rischia di essere drammatica, ho incontrato aziende di questo territorio che hanno avuto una bolletta già nel mese di luglio quadruplicata, cresciuta ulteriormente ad agosto e in previsione di un ottobre per le famiglie in cui il gas da 1,6 Euro metro cubo passerà verso i 4, la necessità di risposte vere, non di chiacchiere di bla bla, ma di capacità di separare il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, costruire un tetto sul prezzo del gas a livello europeo e far sì che si ponti sul serio sulle fonti rinnovabili su cui c'è troppa burocrazia e ci sono stati troppi no in passato. I cittadini, categoria alla quale tutti noi apparteniamo, poi ovviamente chiedono anche risposte per esempio su un aspetto così importante come è quello della sanità. Sì, la sanità è uno dei principali problemi, è quello su cui due anni fa si è cambiato verso nel governo della regione Marche, si erano promessi ospedali, territoriali, maggiore presidio, la realtà dopo questi due anni è assolutamente fallimentare, le liste d'attesa per i cittadini sono aumentati, si sta da ospedali territoriali che bisognava aprire, oggi siamo in difesa addirittura delle guardie mediche, delle USCA, della necessità di potenziamento del pronto soccorso, su questo il fallimento della giunta regionale è assolutamente evidente. E qui mi riallaccio anche a questa novità che è stata presentata ultimamente a livello regionale sulla sanità, un nuovo piano regionale, peraltro entrando nell'argomento regione, ben quattro assessori della regione Marche parteciperanno alle elezioni per andare a Roma. Sì, questo è già un tema di serietà perché solo due anni questa giunta regionale di centrodestra ha chiesto fiducia ai marchigiani a partire da un cambiamento di modello organizzativo, di una sanità più vicina ai cittadini attraverso ospedali territoriali, ci siamo ritrovati dopo due anni a liste d'attesa che continuano a essere più lunghe, a ospedali territoriali che non solo non si vedono, ma stiamo difendendo le guardie mediche, le USCA, la medicina territoriale è praticamente inesistente. Il disegno di questa giunta regionale, infatti nel programma di centrodestra non si parla di sanità pubblica, noi sosteniamo la sanità pubblica da parte di questa giunta regionale, c'è il ricorso continuo a medicina convenzionata e entramenia per cui le liste d'attesa per la sanità pubblica sono eterne e quando si ricorre a prestazioni private invece le si danno a caro prezzo dopo pochi giorni. Su questo bisogna assolutamente intervenire e il fatto che sia una grande macchina di propaganda alla regione senza sostanza è rappresentato anche dall'elemento che vede quattro assessori su sei candidarsi per andare a Roma. Solo due anni fa hanno chiesto la fiducia per governare la regione e evidentemente c'è qualche cosa che non va e su questo bisogna fare assolutamente chiarezza. Non a caso il presidente Acquaroli della regione Marche è finito terz'ultimo nella classifica di gradimento a livello nazionale come governatori delle regioni. E a questo proposito il suo avversario della coalizione di centro-destra sarà Antonio De Poli, ha mai avuto occasione di incontrarlo? Ma in realtà non ho avuto questa fortuna, io ho sempre un grande rispetto per qualsiasi avversario, solo che non solo la decisione della sua candidatura a quanto pare è stata costruita a Roma, ma è venuto solo qualche pomeriggio, io ho chiesto un confronto pubblico più volte e non si è visto. Le persone mi stanno dicendo che molto spesso i parlamentari non si vedono più qui, soprattutto nei piccoli comuni, nell'entroterra. Questo è un problema molto serio. Pensate addirittura a chi neanche in campagna elettorale si fa vedere in questa regione, vuol dire che l'investimento è tutto in termini di prospettiva politica personale, ma di rappresentanza e di difesa di questo territorio c'è ben poco. Ha toccato un tema molto importante, quello dell'entroterra, quello del territorio, siamo reduci da una catastrofe accaduta nella nostra regione, nella nostra provincia, nella provincia di Ancona, proprio i territori che lei sarà chiamata a rappresentare a Roma. Si è impegnato in prima persona? Sì, io sono da anni attivo nel gruppo di protezione civile dei volontari ad Ancona, penso che la protezione civile sia una risorsa importantissima, ci sono più di 13 mila volontari nelle Marche, ieri sono stato tutto il pomeriggio a spalare fango in una piccola frazione vicino sera a Santa Bondio, bisogna stare accanto alle persone, questo non è il momento delle polemiche, è il momento di rimboccarsi le maniche e spalare il fango, però purtroppo c'è anche il tema delle responsabilità. Onoriamo i nostri morti ricordando che sul dissesto idrogeologico è stato fatto ben poco anche in passato, quello che è stato grave in queste ore è che l'alerta meteo non è arrivata, la protezione, gli assessori sono troppo distratti in campagna elettorale per occuparsi invece di questa che è un'emergenza drammatica perché ha continuato a piovere e se non fosse per la protezione civile e i fili del fuoco di questa regione che hanno dimostrato una formidabile capacità di rapidità e di intervento, io credo che la regione dovrebbe ringraziare costantemente tutta la politica, nessuno escluso dovrebbe fare il proprio tributo perché queste forze abbiano sempre più mezzi, più risorse, siano sempre più tutelate e siano da esempio di una politica che parla troppo ma quando è il momento di fare la propria parte si tira indietro. Sì le persone sono quelle che poi fanno sempre la differenza, è chiaro quindi anche che lei ha una ben precisa opinione su quella che è l'emergenza ambiente, quindi un futuro davvero verso un'energia e un qualcosa che possa essere sostenibile. È un'emergenza che conosciamo da tempo, abbiamo utilizzato le risorse di questa terra come se fossero infinite, in realtà oggi la terra ci sta presentando le sue ferite in modo drammatico. L'esempio di quanto queste cose siano urgenti e su cui bisogna fare prevenzione ma anche capacità di intervento è rappresentato dal racconto di alcuni vigili del fuoco che ho incontrato ieri proprio sul posto impegnati che raccontavano appunto di essere passati dal spegnimento degli incendi di qualche giorno fa all'alluvione, vuol dire che non è la terra impazzita e che raccoglie tutte le ferite di questi anni e che probabilmente la politica si deve occupare di cose anche di lungo periodo e non solo di pensare costantemente solo alle scadenze elettorali. È una candidatura al Senato, un Senato che in funzione dell'ultimo referendum avrà meno rappresentanti e è una questione che chiaramente ha investito in toto il mondo della politica e ne cambia comunque l'assetto. Sì, di fatto il 37% dei collegi in tutta Italia saranno assegnati con un maggioritario molto forte che significa che in tutti i territori, in questo collegio Ancona-Pesar Urbino si eleggerà non il partito, non il leader nazionale ma si sceglierà tra un candidato e l'altro, in questo caso appunto lei nominava De Poli o il sottoscritto Marco Bentivogli. Le posizioni che premieranno e che eleggeranno un candidato sarà solo la prima posizione, cioè chi in questo collegio raccoglierà un voto in più dell'altro, secondo, terzo, quarto, quinto classificato non avranno nessun voto, per cui io non parlo di voto utile, parlo di voto intelligente, bisogna concentrare il più possibile sulle persone perché poi le persone saranno quelle che ci rappresenteranno, rappresenteranno questo territorio, questa terra bellissima di questa regione che ha tante opportunità ma anche molte difficoltà crescenti su cui bisogna assolutamente intervenire. Grazie a Marco Bentivogli, candidato al Senato della Repubblica nelle prossime elezioni per il collegio uninominale Marche Nord, Ancona-Pesar Urbino. Grazie a voi. Grazie a voi.